Ciao a tutti, oggi vi ho preparato tre varianti con tre colori diversi, sono tre pennarellini, scegliete quello che vi attira di più, se avete bisogno di focalizzarvi sul colore prendete un attimo di tempo mettendo in pausa il video. Vi ricordo che questo video è valido nel momento in cui lo state guardando, quindi anche se fosse stato pubblicato un anno o due fa non importa, è sempre valido. Andiamo a vedere con gli oracoli la vostra risposta ed è una risposta secca a una vostra domanda, probabilmente un sì o un no o comunque una direzione ben definita. Io parto subito con il viola, quindi abbiamo opzione 1 viola, opzione 2 giallo, opzione 3 verde, io parto subito con il viola, voi se avete bisogno di più tempo mettete in pausa il video e noi ci vediamo alla fine del video. Penarello viola, allora chiediamo un po' la tua risposta alla tua domanda secca. Ok, aspetta e sei pronto. Quello che mi dice è sei pronto fondamentalmente, però devi un attimino aspettare, prenderti i tuoi tempi, non agire impulsivamente, andare verso quello che ti aspetta di positivo perché sei pronto. Hai solo paura secondo me di te stesso, dei tuoi doti, dei tuoi doni e di quello che ti sta per avvenire e quindi questa paura che cosa ti vuole dire? Ho questo timore, questa incertezza, aspetta, prenderti i tuoi tempi, cerca di ragionare, cerca di studiare bene la situazione, non ti far prendere dal troppo, dall'enfasi e cerca di fare le cose in maniera ponderata, però vai perché sei sulla strada giusta. Ok, io ti ringrazio, se hai bisogno di farmi una domanda e vuoi un video di risposta lasciami pure un commento qua sotto e se ti è piaciuta la stesa lasciami un like così mi aiuti a supportare il canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Penarello giallo, allora vediamo un po' che cosa ti dicono gli oracoli nella tua risposta. Ok, sono cadute. Ascolta la tua intuizione, acquisisci maggiori informazioni. Allora, quello che mi dice è che dentro di te tu hai la risposta e probabilmente questa risposta è una vocina che ti continua a girare nella testa, non è vero? Nell'orecchio, come una pulce. Anche se cerchi di razionalizzare, pensare col cervello, con la mente razionale a qualcosa, magari fai anche una lista di pro e di contro su quello che stai andando a scegliere. Nonostante questo, in realtà sai benissimo che dentro di te c'è la voce dell'intuizione. Chi ti ha già dato la risposta? Che magari ti dice no, per carità del cielo, oppure sì, è la cosa giusta anche se non ti sembra quella. Sei tu che devi saperlo, ma l'intuizione è qualcosa che ci parla a volte in maniera anche un po' flebile, che sembra quasi che non riusciamo a capire che cosa ci voglia dire. In questo caso io ti consiglio magari di provare con la meditazione. Cerca un attimino di fare piazza pulita dei pensieri della mente razionale. Ascolta la tua intuizione perché hai bisogno veramente di collegarti con essa. Acquisisci maggiori informazioni su quello che ti sta capitando e potrebbe essere che tu abbia a che fare magari con una relazione tossica. Non so perché, ma mi risuona così per la maggior parte delle persone che stanno ascoltando. Se è così, è meglio che tu acquisisca maggiori informazioni su quello che è lo spettro della relazione tossica e magari anche della patologia della persona con la quale hai a che fare. Ovviamente se è così ti consiglio di affidarti anche a un terapeuta perché ti può aiutare tantissimo. Se hai bisogno di più informazioni sulle relazioni tossiche, io ho fatto proprio una playlist nel mio canale dove parlo delle relazioni tossiche, di narcisismo e della codipendenza anche che secondo me potrebbe esserti molto utile. Magari faccio dare un'occhiata e poi ci sono tanti altri video sul web ma in ogni caso quello che ti consiglio di più è proprio affidarti a un terapeuta o magari a qualche libro perché le nozioni che puoi apprendere da un terapeuta o da un libro sono molto molto migliori rispetto a quelle che puoi imparare sul web. E niente, comunque questo è quanto. Ascolta la tua intuizione perché è la cosa fondamentale. Ok? Se hai una domanda da farmi e vuoi un video risposta lasciami pure un commento qui sotto con la tua domanda. Io farò dei video risposta nei quali risponderò. E se ti è piaciuto questo video lasciami un like così aiutiamo a crescere il canale. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Ciao variante numero 3, penarello verde. Allora vediamo un po' che cosa hanno da dirti gli oracoli. Riguardo a questa situazione. Ok. Due carte abbiamo no. E risoluzione pacifica. Allora, quello che vedo è che probabilmente tu hai un problema nel dire no alle persone e che in questa situazione soprattutto dovresti dire no. Ma non riesci. È come se la persona o le persone coinvolte all'interno di questa situazione che hanno a che fare con te fossero... non ti mettessero nella condizione di dire no. E tu non riuscissi perché ti senti in colpa o ti senti come se fossi maleducato o maleducata o cose di questo genere. Ma quello che mi dice questa stesa è che non c'è nessun pericolo nel dire no ogni tanto quando non ti senti di dire sì o dirlo anche una volta in più. Perché quello che succederà è che in realtà queste persone poi capiranno il perché tu hai detto no e ci sarà una risoluzione pacifica. Quindi non ti preoccupare se ti senti di dire no, di pure di no e anzi è fondamentale che tu lo faccia perché ricorda che ogni sì detto controvoglia è un no a noi stessi. E tu sei la persona che ti porterai dietro per tutta la vita. Ok? Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto lasciami un like così aiutiamo il canale a crescere. Se vuoi farmi una domanda lasciami un commento qui sotto così farò anche dei video di risposta nei quali risponderò alle vostre domande. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!